Grazie Presidente. Io ero e sono con Nino Di Matteo, senza sé e senza ma. Di Matteo, Buonafede, cambiò idea sulla mia nominal DAP per lo stop di qualcuno. Siccome sono con Nino Di Matteo, senza sé e senza ma, leggo Di Matteo. Allora, ho tenuto il telefono spento, ho lavorato, questo è quello che dice Di Matteo alla giornalista di Repubblica, dopo la famosa trasmissione di Giletti, non è l'arena. E riconferma i fatti tali e quali. Sì, i fatti sono quelli. Il mio ricordo è preciso e circostanziato. Ripercorriamoli allora quei fatti. Era lunedì, era il 18 giugno, ero a Palermo a casa. Il giorno dopo sarei tornato a Roma, nel mio ufficio, alla Procura Nazionale Antimafia. Squillò il telefono una prima volta, con un chiamante sconosciuto. Non risposi. Suonò di nuovo, era Buonafede. Con lui non avevo mai scambiato una parola. C'era stato soltanto un incontro alla Camera, nel corso di un convegno sulla giustizia, e poi un altro alla Convention del Movimento 5 Stelle a Ivrea. C'ero anch'io lì a Ivrea. Mi ricordo bene come il Movimento accolse Nino Di Matteo. Bene, se oggi siamo qui, è perché c'è un fatto. Vede, Ministro, c'è un fatto. È il fatto esattamente legato a quella proposta che lei fece a Nino Di Matteo. E che lui continua a ribadire, cioè la ricostruzione di Nino Di Matteo rimane tale e quale. E allora Aristotele diceva, Platone è mio amico, ma la verità lo è di più. Lo so che non è agevole reggere lo sguardo e osservarmi, Ministro. Però tradire sia gli amici che la verità, beh, ce ne vuole. E lei di fatto ha tradito un simbolo, molto di più, perché Nino Di Matteo era ed è un simbolo della lotta antimafia. Ma evidentemente quel simbolo non era degno della sua coerenza, perché ancora oggi non è chiaro il motivo per cui quel Nino Di Matteo, a cui lei offrì un incarico prestigioso in alternativa ad un altro, il DAP o gli affari penali, fu scelto da Di Matteo nella casella del DAP. Cosa sia successo dopo non lo so. Lei dice che non ha subito pressioni. Benissimo, non faccio fatica a crederlo, ma non abbiamo ancora capito il motivo per cui alla fine Nino Di Matteo al DAP non c'è andato. La questione è molto semplice, sì sì, no no, è quasi evangelica per alcuni tratti, è binaria, non c'è bisogno delle sfumature, anzi è proprio nelle sfumature che ci sta di mezzo il diavolo e io non voglio assolutamente pensare alle tentazioni del diavolo. Però vede, siccome qui il fatto è esclusivamente politico, lei oltre a essere Ministro di Giustizia è anche Capodelegazione del Movimento al Governo. E io non ho ancora capito come il Ministro di Giustizia, che è anche Capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Governo, riesca a sopportare la riconferma del signor De Scalzi alla guida di Eni, lui che è imputato per quella che secondo la Procura di Milano è la più grande tangente internazionale mai pagata da Eni. Quando solo era indagato da quei banchi, si veniva qua a fare casino, ma erano altri tempi, forse era solo indagato? Beh, sappiate che c'è una differenza sostanziale tra essere indagati ed essere imputati. Chiedevate che non fosse confermata la guida di Eni quando era indagato e oggi che è imputato, io mi domando come facciate a sostenere ancora De Scalzi alla guida di Eni. E lei che è Ministro della Giustizia, oltre ad essere il Capodelegazione del Movimento 5 Stelle, qual è il suo senso di giustizia? Quando è imputato, poi ce ne sarebbe anche un altro, così, gliela cito lì, ce ne sarebbe anche un altro di imputato che si chiama Profumo, che è coinvolto nel processo MPS e che è stato confermato alla guida di Leonardo Finmeccanica. Evidentemente anche qui ci sono delle poltrone da spartirsi, dei giochi o dei posti in consigli di amministrazione, e sono contento che anche noi finalmente abbiamo Capitano America che può sedere nel consiglio di amministrazione di Leonardo, perché finalmente anche noi abbiamo un pezzo di America in mezzo a un volume... Sono contento che abbiamo un pezzettino di America, rappresentato soltanto nel cognome, in un mare di Cina che ci sta invadendo. Quindi io sicuramente non le confermerò la fiducia, signor Ministro, e faccio mio quello che appunto diceva il buon Aristotele. Platone è mio amico, ma la verità di più.